Sus, a 20 chilometri da Monastir. Qui è stato ricostruito il Golgotha. I tecnici degli effetti speciali stanno provando la meccanica della crocifissione, una scena che per la sua complessità non potrà essere ripetuta molte volte. C'è un chiodo fatto a siringa che martellando sopra entra a scatto e dà l'impressione che entri. Per quanto riguarda il problema dei chiodi abbiamo creato questi chiodi a rampino che l'attore Paolo aveva un problema sulla croce, tenteva andare avanti perché stava abbastanza in bilico. Con questo chiodo invece mettendolo dentro la bara, lui pigiava avanti e trovava un sopporto per il corpo. Così stava abbastanza equilibrato, cioè stava abbastanza comodo sopra. Ogni particolare, ci ha detto Luciano Beard, responsabile di questo reparto della troupe, è stato studiato per mesi e mesi per evitare incidenti al momento del giac. Levate quella scritta! Grazie! Grazie!